Ciao, mi chiamo Daniel, sono un coach italiano, 50 gradi black belt. Benvenuti a nostre lezioni di kickboxing. Il hook è un po' molto potente per il boxing. Puoi usare con lezioni di avanti e lezioni di braccia. Il vostro cuore deve essere protettato quando si chiama. Potete una buona rotazione del corpo, dei vostri pezzi, per dare il massimo potere alle tecniche. Lezioni di braccia e lezioni di braccia. Oggi. 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 potete cambiare la posizione della mano usando la potenza del cuore posizione classica posizione 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 boxing uppercut è una molto potente prendere una buona rotazione del corpo per dare il massimo potere ai punch proteggere la sua face prima di farlo il target del cuore potete essere il corpo del contender il liver o potete essere il face potete trovare il modo giusto per entrare su il guard usando i movimenti del corpo e dei piedi usando una buona protezione quando sei fermato con il cuore potete per la mano per la mano per la mano per la mano Straight punches lines, long distance, uppercut close distance with your contender. Now you can try all techniques, all combinations with boxing punches, stride, jab and cross, hooks and uppercut to different targets. Roundhouse kick on kickboxing can hit on 3 different targets. To the legs of your opponent, low kick, to the body, middle kick and to the face, high kick. Low kick is a very powerful kick to the legs of your opponent. You can hit with a maximum power, with a good rotation of your body, to improve the power of the techniques. Low kick can be with a back leg maximum power, with a full rotation or with advanced leg, sometimes like fake techniques, or to the internal legs of your contender. Use the combo kicking with punches. Try to destroy the legs of your contender to improve your action. Try to get a good defense on the attack of your contender with low kicks. You need to wake up your legs. You need to wake up your legs to protect yourself. You can change the directions, moving your body. front, side, opposite. Try to move, try different guards. Many defensive blocks coming from Muay Thai techniques and are very useful on kickboxing. I kick. Try to kick the face of your contender. You can use the advanced leg. You can use your body weight to help your kick. Thank you for your time. Next lesson. Green belt.